Ciao a tutti ragazzi, ho avuto il video, oggi sono qua con la carriera, e qui ci sono oggi ottimo quattro, per i due per il mercato, qui il terzo per due partite, per questo io appunto faremo tre partite per oggi, quindi non c'è, non c'è, o all'Atalanta, o all'Atalanta, o al Davoli, poi ci sono i miei, 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 e qui gli aspetta, poi gli ragazzi altri, ah, Ederson, Ederson, eh, la so, ti può provare, ma niente, dice che non è fallo la vita, quindi c'è, Boga, 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 che gli ha passato a Bajdowski, gli ha passato a Bajdowski, gli ha passato a Bajdowski, però Persina, Persina va, Persina gli ha passato a Duval, Duval c'ha fatta, la poteva mettere in mezzo, una c'è per la canale, la Bajdowski, chi è? Badaliss, una c'è per la canale, la c'è per la canale, la c'è per la canale deve fare più su un seno, Ghiombe, la passa a Bajdowski, sono tutti stanchi? Sì, Ghiombe, la passa a Bajdowski, sono tutti stanchi? Sì, Ghiombe, la passa a Bajdowski, sempre che potevo esaliere un po', gli atti salivi di gol Ghiombe, che io non posso anche lui, poi poi ve ne bloccate qui la da A e l'Anda, e l'Anda a scarta 1, ma non si riesce, e quindi se è arrivata già आya, già fatti, già fatti, già fatti, mi sta Fata la lancia su Bajdowski e Direzioneche che Alone, la passia fatti , oggi sono tutti calma perché mi ha scattato zia fatti, non mi ha scoppi, non guai la passaira, ah递 Ghiombe, non riesce a scattare qui c'è Giombe, c'è Sci By-Dowski che se ne poteva andare, vai i noschi, vai i noschi, vai i noschi, dove non mi porti, non lo sepe, se tu me lo fanno tanto ora e si scorta la parità, dai seri ragazzi, dai, caceli, oh, possetti, passi l'acqua, e l'acqua, e l'acqua scorta uno, bravo, bravo e l'acqua, va e l'acqua scorta un'altra, e lì dimmi dove c'è, vai i noschi, sbaglio, vai i noschi, la passa i noschi, la passa i noschi, bravo, la passa lo stesso, tu va attraverso, un po' di fortuna, anche nel processo di lavoro, voi non c'eteva appicciati, caritatore, caritatore, non c'è, caritatore, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, perché io ho scarico, qui le c'è queste vai i noschi che tira, prose sepe, ragazzi, stavo seduto la brutta martita, prima martita di oggi brutta, devo fare seri vai su bravo ora c'è qualcuno non c'è nessuno deve mettere più punta e da fare un 4 4 2 forse da generale faccio il 4 4 2 poi adesso tiro esce proprio più veloce in mezzo c'è per ragazzi ho cercato di dispiace 4 4 2 perché è vero due difensori poi quattro due di contenimento cose pesanti quattro tutta cosa cos'è l'alto e cos'è ioi poi ci serve uno che ha più più come si dice ci perso la vita e questo è vero c'erano due e poi c'erano no aspetta da questo 4 4 2 in contenimento no ecco questi però qua non so cosa cosi quanto gli amo di pari e del giudice mi dispiace per i veri mai o per la scuola per la visione che sto partita 3 gol subito e che il portiere oggi non c'è il portiere sempre si rotte le mani oggi passa calmo vai verdi vai verdi che c'è fai quanto vuoi i roschi verdi e va fuori vadolla verdi c'è intratto e intanto è diventata a posto di liberi per il fatto di oggi pure non sbagliarsi ci ha fatta per bulger fallo rosso rosso la zona infanzio ecco di faccio di verdi dai ciao 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 però più sempre così vado qua, la difendere è scoperta, anche quello ce la faccio vedi no, non c'è nessuno attacco con noi non devi mettere il contrario, e lei dice, vado con quello sale l'esterno, non puoi salire, non dico come faceva prima, ma è l'aria e siamo senza euro, quindi la prova non vale, però, ecco, dio, sepe, 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 andiamo, sepe ah, prendiamo un paio, prendiamo un paio, prendiamo un paio, l'ho detto sepe, non usci, non usci, sepe, andai bene, non sapevo, eh, non sapevo che devi mettere sapete, non lo facciamo a perdere di più, perché mi spiacevo, dovevo, poco, 5, 0, come si fa perché è brutta partenza, che è brutta partenza così dappi qui è ancora peggio, mi sapevo, sopevo, due svincolati e gli svilati per esempio perché, ma perché, perché voglio sapere, io e gli svincolati insieme con altre persone, e poi ci prova, ragazzi, voglio portarmi di fosse volante, prendo un di attaccati insieme, e che, di portarmi, non posso prendere la prova, c'è tenta, il presente video, ne approdico la fede, eh, ho fatto 2 mesi, 2,000, è poco, va bene, forse, 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 videro, ti riprovo, Poi intanto c'è il doble, adesso mi enzga, mi enzga, mi enzga. L'unico a fare così molto più, c'è un doble, c'è una volta tipica di far arrivare l'agendaio, e l'agendaio mi preoccupa di tutto. Poi c'è una formazione che va bene per tutti. Io qua il marito, l'ho detto a destra, e l'anca punta. E ho gli enti, così. Poi qua però, qua, e poi mi sta piacendo. Io adesso era poi, qua c'è il Vigeli, qua c'è il Colima lì, e qua adesso c'è la Dovalis, e l'ho mettito là. E' sempre restato lì, facendo con le modifiche. E tu, Vigeli dove fare bene. Ragazzi, ho notato questi cambi, un pochino, come ce l'hanno a poter vivere a destra, vediamo come fa. E che secondo me potrebbero fare molto bene, e domani secondo me potrebbero fare ancora meglio di Fazio. Meglio di Fazio, secondo me. Poi in Paciano dove vede un difensore centrale, un centocardone, due difensore centrale. In Paciano dovevo fare due difensore centrale, dove vede due forti, giovani, che crescono, tipo uno, te lo tante, c'è che c'è tutto un sacco al milano. E poi dopo, anche uno vecchio, ma è proprio uno che sa cosa farsi, tipo Chiellini. E che importa, ci siamo i buffotti. O abbiamo uno su un colato, uno buffotti, o non lo si prende più. Provi, adesso c'è il sole. Adesso è presto, è. Faccio i belli, e non faccio... No, faccio i brutti, perché i belli li mangiano tutti. Sì, ciao, ciao, ciao. Proprio ciao, eh. Malquist. Quando ti credo, sto cercando male. E c'è, la stessa Malquist, è qua, è proprio il piove le forti. Io vi volevo andare, vi volevo andare a cazzo, su Shet, dopo dieci minuti, io mi sono arrivato, è tutto il piove. Ma che cavolo, ho fatto niente, è piove. Poi ci sono tanti di atti minuti, e ti piove, ho fatto piano. Poi vive forte. Salto, e lo piove più, ho fatto un po' qua in temporale. Ah, qua c'è da un piccolo, qui faccio i video. E' laga, e' laga, e' laga. E' laga, tu, del bravo, e' laga. Vai dentro, e' laga, booset. Guarda, booset! E' toccata, e' con l'ioe lì, ha toccata, no! Bonset no, però, booset. Dai, eh. Dai, vinciamo la sua partita, il vero, io mi fai, non ho perso la vita, ma non ho perso 50 euro, ma don't. Sei partita, c'è quello che mi ha accennato, ma don't. E' qua, e' c'è quello di balli, e l'altro, c'è ancora forse, vado, vai, 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 Edson, vai, che non fai, Ederson, 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 d'agliela, oce' laga, d'agliela, riberi, 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 no, riberi, la duggia, ho schicciato il cross, guarda, ma tu non ce la facciamo, no, non ciò, a tenere una palla, ecco, questo, andiamo a dire, qualche a mezzo, ecco, torne, qualche a mezzo, guarda, bravo, vai, 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 Ederson, Ederson, bravi ora vai con lì niente non ce la facciamo cosa ce la fai a domani ce la fai a prendere la palla la metti in mezzo tanto vedi tira parata la potevi pure stare a uscire giocare mai prendi la palla bravo sepe da sepe o di sepe o di sepe ti puro un favore a tappare lo vedo su infatti mi faccio giocare bene bravo ora vai con sincronissimo non lo vuole non lo vuole a jed per favore passalo benissimo bravo ed ha scattato un altro guarda 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 no dai io ho detto spiacciate qua la palla vabbè dai ribari ce la fai vero ribari ribari no devo passare in mezzo un po' lo tiro devo passare in mezzo ci metti i smart fai dov'è farlo dai che cavolo puoi dirci ma cavolo il cuore quelli valentine se si abbassa è studio se si abbassa bravo ora andiamo su ora andiamo su ragazzi andiamo su facciamo un gol uomo il cuore e se non ti fai da soglia bravo vai vai vabbè vai 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 vabbè 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 aia bravo bravo e larga e l'altra sbaglia ma l'altra sbagliata io ti ho messo punta adesso resta punta ce l'hai ce l'hai ce l'hai, ce l'hai ce l'hai bravo ma io ce l'ho tuttissima con te balset musica grazie scuola a partita stavo giocando meglio nella prima e quindi forse l'acqua ce la possiamo fare dai ce la facciamo fare a vincere questa partita io li voglio salvare e dove riusciamo bravo con le mani cioè bravo ieri oh ieri ti metti in lascio sto cosa oh ieri non hai fallo questo abito ho messo pure la palla però tutte e due vai bravo bravo no vabbè ho fatto con le mani che erano a distante ho fatto con l'altro ieri qua rischino eh vi dico solo che rischino ma anche in mezzo ma anche in mezzo eh e poi da subito subito la pagina tutto il tempo d'aglio assoluto oliva lì se ci perdono palle le attreverso abbia purevasse no dai boccia la pace rivolse un altro tempo vita c'era preso agli ha detto passere poi vado nella cassa proprio che ci vado con l'inca sta piovendo forte eh sì poi cacci in faccia dai parodi su gioca ma ciò che spreca e spreca la faccola per quanto riguarda la crescita esci sempre si prega il paletto davvero c'è vicino è meglio ma lascia faccio chi vai faccio chi faccio chi non la vantare adesso si quasi pari 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 scatto a posse chi non la perde e non è fallo vedo a volte però arbitro albero perché non è affatto tanto però dai caldo o se lo diamo al cielo facciamo un gol e devo tanto farlo proprio e mi è cazzo il piede e devo tanto pestone ecco i pali sta a entrare pure e allora c'è chi va vabbè, gli altri non le veloze ma che li ha da? Ah, i facciocchi che li ha da? bravo Rimeri! 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 prova il tiro! Fuori Rimeri! no Rimeri! no Rimeri! no Rimeri! dai Rimeri! potevamo vincere la! che cavolo! io giochiamo un'altra però c'è la vita con questa se riusciamo a fare il goccio allora vincolo, poi ce la vinciamo noi si esci ok, allora mi ha dato il tempo eh si poi gioca, gioca, gioca ecco, ecco giallo carri, veloci perché ho messo questo io vorrei essere bravo vai l'altra, vai l'altra vai l'altra, vai l'altra vai l'altra, vai l'altra tira, no ho parato ora la devo mettere in mezzo, lo sappiamo c'è il drago, dite, eh, capisci il drago, dite, bravo, no mi fida nooo esatto, si girava un pochino eh ragazzi, sto provando io ci sto provando veramente so che non riesco, non riesco a fare questo bambino di cavolo eh, non lo vado se fanno con loro, mia bravia che stavo dominando vuoi fuori ragazzi, 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 sai non ci serve bravo è che ci sono attaccato la scatola allora, come si fa vedere, no, eh la guarda è lui albero, albero eh, albero eh, albero, sono quelli di bene ragazzi ma neanche la prende madonna l'anca, madonna l'anca non ci credo non ci crede l'anca ragazzi, non ci credo quanto è durato hai 18 minuti ragazzi domani ci vedo di una rebuilding oh, sì, perché non ci vedo ma domani ci vedo di una rebuilding domani, ciao domani ci vedo domani ci vedo domani ci vedo